Imam Bastami, non si è ancora spenta l'eco dei fatti accaduti a Parigi qualche giorno fa. La comunità musulmana abruzzese come sta vivendo oggi una situazione obiettivamente difficile? Effettivamente è una situazione molto difficile perché siamo stati tutti col fiato sospeso aspettando la conclusione di quel dramma. In Francia, torno a ripetere che noi abbiamo condannato l'azione, abbiamo espresso la solidarietà alle vittime, alle famiglie delle vittime, al popolo francese e quello che noi vogliamo cercare di fare è di far capire che quelle azioni non sono espressioni dell'Islam. Le autore di quelle azioni non sono ritenuti dei musulmani, sono delle persone che agiscono in base a delle convinzioni che sono molto estranei all'Islam. Molti dicono che esiste un Islam moderato e che esiste anche un Islam integralista. È così oppure no? Io la penso così, l'Islam moderato è quello che comunque cerca di interpretare le fonti, i testi tenendo conto di quelle che sono le esigenze del momento. E poi quello integralista che non vuole vedere ragioni di avere solo una interpretazione unica e univoca dei testi. Imam, che clima avvertite voi in Abruzzo? Di ostilità o avvertite invece un clima tranquillo? Noi in Abruzzo ci sentiamo comunque a casa, lo ripeto sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo perché viviamo un clima di amicizia con la popolazione abruzzese. Siamo accolti bene e siamo trattati bene. Ciò non impedisce che ci sia qualcuno che si esprime non direttamente ma si esprime in un modo un po' bizzarro. Però il clima che si respira è un clima di reciproco rispetto, fiducia.